Buongiorno a tutti signori, oggi vi proponiamo una grande opportunità qui a Palau. Palau è l'arcipelago della Maddalena, uno dei posti più famosi nel mondo, spiagge, mare fantastico della Sardegna. Qui siamo a Residence Tancamanna, un bellissimo Residence a pochi minuti dal centro, a qualche centinaio di metri dalla spiaggia della Shumara, è un Residence dotato di piscina, condominiale e di tutti i comfort. Qui vicino abbiamo tutti i servizi e vi invito a venire a vedere con noi questo bellissimo appartamento al piano terra con giardino, dotato di un grande soggiorno con l'angolo cottura, due camere e i doppi servizi. Venite, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.